Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, buona domenica ovviamente, prima di cominciare ed addentrarci in questo nuovo contenuto, le parole del mister nell'immediato post partita da leggere e commentare insieme, ci sono alcuni accorgimenti tattici che secondo me non vanno messi da parte ma vanno condivisi e commentati, fatemi sapere ovviamente la vostra a riguardo qui sotto nella sezione commenti un pensierino per quanto riguarda la situazione Osi, Lukaku e Ostigard che potrebbe rifiutare il REN, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che sono stati ieri sera in live con noi e vi chiedo scusa se non abbiamo letto molti dei commenti perché quando si è in quattro comunque argomentando, dando spazio agli ospiti qualcosa è inevitabile che me la possa perdere ma miglioreremo anche da quel punto di vista, ci saranno degli accorgimenti e ulteriori miglioramenti. Detto questo partiamo dalle parole del mister e andiamo a vedere cosa è successo ieri tra chi mi è piaciuto e chi meno. Buonissimo test, veniamo da nove giorni di lavoro importante sia dal punto di vista fisico che tattico, bravi con la pressione e a mantenere la linea alta, con la palla dobbiamo essere più bravi a gestire per comandare il gioco ma sono soddisfatto dell'impegno, dobbiamo migliorare. Il gioco non ha risentito dei carichi ma rispetto che in fase di possesso dobbiamo essere più bravi, siamo stati aggressivi e con la linea alta, aspetto il rientro dei nazionali ma sono soddisfatto dei ragazzi. Un ritiro in crescendo, siamo partiti pian piano ma c'è stato il miglioramento, i calciatori stanno capendo cosa voglio, vincere aiuta a vincere. Pressione in uscita, voglio una squadra aggressiva e che non aspetta la morte sportiva. Cerchiamo di migliorare sulle linee di passaggio. Impeccabile il mister nell'analisi, anche molto concisa del match. Il Napoli ha aggredito all'inizio ovviamente, poi vengono meno le gambe per i carichi di lavoro e non è che puoi fare tutta la partita in aggressione nella metà campo avversaria. Siamo a luglio, è vero che è calcio di luglio, è vero che sono amichevoli, però la partita di ieri secondo me contro il Mantua che fino a ieri alle 17.59 era la squadra di Postanzini, il Mantua, rivelazione del campionato di Serie C, promossa in Serie B eccetera, alle 8 meno un quarto di ieri sera era diventata una ciofeca e tutte le cose che sono state dette in un anno intero su Postanzini, al limite se le sono dimenticate tutte quante. Detto questo è un Napoli organizzato già e merito ovviamente a conto e lo staff perché c'è già un minimo di organizzazione che non abbiamo visto nel ritiro dell'anno scorso, ovviamente prendendo a livello temporale la stessa situazione. Lo si vede da che cosa? Lo si vede da un automatismo soprattutto a destra che sembra già ben fondato tra Politano e Mazzocchi, Politano entra, Mazzocchi resta molto largo sulla linea del fallo laterale, a sinistra ovviamente si aspetta Quara come avrete visto dalla Locandina perché Lindstrom molto probabilmente a livello tattico ha bisogno di sei mesi per incamerare qualche situazione, situazione denunciata anche l'anno scorso dai vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina, forse è indisciplinato dal punto di vista tattico perché tecnicamente e dal punto di vista delle qualità io non lo discuto e mai lo metterò in dubbio, tanto è vero che il gol dell'1-0 di ieri lascia presagire che i piedi e la coordinazione comunque ci sono e resta più un problema di applicazione come ho già detto ma vedremo il mercato, se ci sarà un mercato in uscita e Lindstrom poi si accaserà da qualche altra parte o sarà del Napoli 2024-2025 perché non è detto che poi tutte le voci in uscita vadano in porto, c'è sicuramente un mercato da fare e un'altra squadra da convincere perché si è sempre in due a fare mercato, non si è mai, non si è mai da soli. Che dire? Che dire di che dire? Il migliore del ritiro di di mano, il migliore in campo ieri, applicazione, determinazione e voglia di restare in rosa. Io lo dico oggi, lo tengo assolutamente in rosa del Napoli 2024-2025 perché? Perché per caratteristiche è quella punta di peso che può essere il sostituto di Lukaku. Ovviamente forse posso correre troppo ma che dire l'ha già fatto nel 4-2-3-1 di Di Francesco. La punta di peso che comunque faceva salire la squadra favoriva gli inserimenti dei tre appunto dietro la punta. In quel caso e quindi in fase di rifinitura e lettura dell'azione è un calciatore che già ce l'ha. Lo abbiamo visto nell'assist per il gol di Spinazzola ieri. Lo stesso gol che ha fatto che dire dal punto di vista tecnico non c'è niente di semplice. Si potrà dire sì ma era stato lasciato relativamente solo, sì ma di sinistro quell'angolo lo devi comunque trovare quella rasoiata dove il pallone tocca e non tocca l'erba e si infila all'angolo più lontano. Quindi non discuto assolutamente le qualità del calciatore e me lo tengo in rosa. Vedendo poi cosa si deve fare con Simeone e lo stesso Raspatori che nel caso tieni. Lukaku che dire? Raspatori deve restare perché potrebbe essere un'alternativa importante anche se ti vuoi mettere a due davanti. Un 3-5-2 ecco potrebbe anche trovare una collocazione tattica forse più consona alle caratteristiche e potrebbe anche far bene al posto di Politano come trequartista dietro la punta perché abbiamo visto che molte volte è il quinto a restare esterno ed ecco che arrivo un attimo a Politano che ieri mi è piaciuto per quanto riguarda la determinazione forse fisicamente essendo un po' più piccolo riesce a recuperare prima quindi sembrava il più pimpante però mi è risultato antipatico nell'ultimo passaggio. Un po' di applicazione in più per quanto riguarda il cross, il servire al limite alla punta nell'area di rigore, un tantino di precisione in più non guasta. A sinistra abbiamo Spinazzola che non voglio dire è già diventato una garanzia ma il bagaglio tecnico di Spinazzola lo conoscevamo, le uniche perplessità le avevamo perché gli infortuni eccetera, 31 anni ma a quanto pare Spinazzola è uno dei primi allenatori in campo per quanto riguarda Conte perché ieri credo che non ve la siete persa nemmeno voi quella situazione dove Spinazzola richiama Mazzocchi e gli dice qualcosina ovviamente non so non so cosa si sono detti però dopo ne scaturisce un Napoli che per quanto riguarda i cambi di gioco da una parte all'altra vengono effettuati in maniera molto più precisa rispetto a poco prima quindi qualcosa si saranno detti per quanto riguarda lo stare larghi perché Spinazzola l'infarinatura tattica da questo punto di vista in un'idea di gioco Conteana forse ce l'ha già ed è più avanti rispetto ad altri quindi può assolutamente consigliare compagni ed è cosa buona e giusta aspettiamo Quara perché su quella fascia sinistra ci divertiremo e non poco posso dirlo posso dirlo assolutamente con sicurezza perché tecnicamente siamo messi veramente bene ci sono delle considerazioni da fare dal punto di vista dell'aggressione come ha detto appunto Conte sembra un Napoli quasi come l'Atalanta di Casperini per quanto riguarda l'aggressione uomo su uomo cerchi di recuperare il pallone per poi andare in porta con al limite scambi nello stretto e conclusioni repentine però ovviamente servono le gambe vedremo come si comporterà il Napoli nel tempo ovviamente recuperando la condizione eliminando le scorie della preparazione che poi faremo anche a Casteldisangro detto questo volevo soffermarmi un attimo su questa reaggressione perché il Tottenham di Conte quando abbiamo fatto l'analisi tattica del Tottenham di Conte perché era poi la cosa più vicina che avevamo da poter considerare per analizzare ovviamente il nostro allenatore ma possiamo posso è una mia considerazione perché non voglio parlare al plurale poi mi fate sapere voi cosa ne pensate posso affermare che dal punto di vista del calcio giocato Conte si è aggiornato e non come determinati personaggi che ho studiato il Napoli di Spalletti so perfettamente come si muove il Napoli di Spalletti altri personaggi che dobbiamo trovare un'altra soluzione dobbiamo essere i camaleontici non dobbiamo passare solo per l'obbottica e quant'altro quindi questa reaggressione che al Tottenham veniva fatta con i due quinti i due trequartisti e la punta ieri si è in linea d'aria alla linea creata poi alla linea di pressione creata dai due mediani può darsi che sia una prorogativa della partita di ieri ma vedremo ovviamente nel tempo se questa situazione si riproporrà ecco perché è bello parlare prima e fare alcune considerazioni prima per vedere poi se nel tempo si ripropongono e ci avevamo beccato tempo addietro detto questo mi è piaciuto Mazzocchi perché sembra aver ritrovato un tantino di lucidità rispetto a tre quattro giorni fa è vero che sono passati solo tre quattro giorni dalla Naune però quando si va in ritiro e con carichi di lavoro così grandi anche 24 ore di recupero in più possono far la differenza Mazzocchi da pimpante finché ovviamente ne ha avuto ha fatto anche una serpentina un bel doppio passo che poi non è andato in porto perché non c'è stato l'appuntamento col gol in area in area di rigore anche il salo rivedremo ovviamente quando avrà eliminato tutte le scorie della preparazione perché anche il sa già a regimi normali e con una condizione ottimale già in una partita eccellente l'altra partita dice ma anche il sa è è sceso in campo quindi da giudicare tra un po di tempo bene Iaccarino che ovviamente voleva mettersi in mostra l'ha fatto molto bene diciamo anche oscurando il deficit del compagno di reparto perché comunque anche il salone che abbia fatto una grandissima partita culminata poi nel quel in quel calcio di punizione dove si è preso la responsabilità di calciare ma meglio farlo in amichevoli del genere che ovviamente in partiti ufficiali i calci di punizione non è mai stato un fondamentale dove anche sa a percentuali altissime però cioè ci sta è un amichevole sta vincendo 3 a 0 e comunque puoi tranquillamente provarle determinate cose ma non è cose per come è uscito il calcio di punizione lasciamo lasciamole da parte queste situazioni per quanto mi riguarda la fase difensiva ovviamente siamo stati sollecitati ben poco però per quanto riguarda l'applicazione non mi è piaciuto Nathan sono sempre stato un sostenitore di Nathan e mi aspetto che ovviamente migliori però troppa sufficienza voi vi dovete far vedere cari ragazzi queste sono le partite che dovete affrontare al 100% per poter mettere il mister in difficoltà per quanto riguarda le eventuali scelte è la rosa da comporre se non lo fate nemmeno in partite del genere e risultate poco sufficienti per lettura e per applicazione è normale che il mister poi trae le sue conclusioni e li mette sul mercato è una cosa inevitabile Rafa Marin credo che però sia più la sofferenza per quanto riguarda i carichi di lavoro perché è andato un po' a zonzo quando veniva puntato nell'uno contro uno quel paio di volte che è stato puntato non è che è stato puntato tutta la partita però voglio battezzarla come una situazione dal punto di vista atletico vedremo poi nel tempo come si comporterà il difensore del Real Madrid e quanto Conte ci punterà per quanto riguarda l'annata che dobbiamo affrontare che è dira da tenere questi sono i punti che è dira da tenere un quara da aspettare per far sì che anche la catena di sinistra sia automatizzata un tantino come lo è stata quella di destra ieri e questa aggressione che comincia a farsi vedere che funzionerà in base a quanta benzina ovviamente hai nelle gambe perché se riesci a tenere fisicamente per 90 minuti come ha aggredito ieri per il primo quarto d'ora di partita non voglio dire che il grosso è fatto però ci sono buone probabilità che recuperando palloni nella metà campo avversario ovviamente se è più vicino alla porta è più probabile che le vinci le partite che Rintani nella tua area di rigore è ovvio Rintani nella tua area di rigore e rischi di prenderlo il gollo quindi sono soddisfatto è un Napoli che da vedere già organizzazione è vero che è presto ma queste considerazioni secondo me andavano fatte anche in relazione al ritiro dall'anno scorso dove nemmeno nell'ultimo amichevole precampionato c'erano sentori da questo punto di vista organizzativo quindi bene e molto bene Conte e il suo staff che ringraziamo per bruciare giorno dopo giorno le tappe perché si stanno bruciando le tappe cari ragazzi per riportare questo Napoli dove merita a livello di a livello di classifica a livello di risultati a livello di gioco senza fare brutte figure come sono state fatte in questa annata che è passata e che ci mettiamo alle spalle ma come dice il mister deve far comunque da monito ogni qualvolta non ti va bene qualcosa devi sempre tornare un attimo indietro e dire vi ricordate quelli che eravate in quell'annata maledetta e ovviamente farne tesoro e mettere benzina più che altro mentale e fisica a quel punto e di tornare sul pezzo la situazione Osimè, Paris Saint Germain fermi a 90 milioni l'offerta Calenda forse credeva di far prima a Parigi ma a quanto pare la situazione si dilunga anche perché caro Calenda non è che ha a che fare con la società sportiva Calcio Napoli dove chiedi al limite il rinnovo per il tuo calciatore, l'adeguamento di ingaggio per poter poi fare i fatti tuoi a giugno nella finestra di mercato arrivi con la squadra che poi al limite avevi già contattato in quel di febbraio e cominciano ad uscire fuori i cavigli con missioni che non ci si accorda la portiamo troppo a lungo, cerchiamo di guagliare perché il Napoli è stato molto celere nello stendere tra virgolette questo tappeto rosso è vero che si è coperto con la clausola perché è giusto che sia così ma il Napoli poteva anche dire caro Calenda io non accetto il rinnovo non ci sediamo nemmeno a tavola poi vediamo a giugno quindi l'apertura del Napoli c'è stata la copertura con la clausola anche ed è doveroso farlo in queste situazioni quindi adesso sta a voi concludere e trovare i vostri accordi e posare la moneta che dovete posare perché noi non possiamo aspettare ulteriormente voi per capire come muoverci sul mercato anche dal punto di vista difensivo dove in ballo c'è ancora quella situazione Olivera dove lo mettiamo Mario Rui che ha chiesto la cessione ma non si presenta nessuno vorrebbe tornare in Portogallo e vediamo se ci saranno sviluppi da quel punto di vista concludo e dico caro Osticard non metterti di traverso perché altrimenti come si dice a Napoli ci facciamo mal amici ma veramente la destinazione del re non gli piace al limite così leggiamo non gli gusta tantissimo si prende dei giorni per rifletterci perché ci saranno un paio di giorni prima di Castel di Sangro dove il calciatore può riflettere che siano solo un paio di giorni perché servono le uscite perché dobbiamo completare la rosa quindi veritive mover perché di tempo non ne abbiamo più e di pazienza Conte non ne ha mai avuta e secondo me sta già un attimo gestendo se stesso per quanto riguarda l'essere pazienti in queste situazioni ma a quanto abbiamo letto si procede si procede nei giusti tempi quanto abbiamo letto in questi giorni quindi ci fidiamo assolutamente della società, del mister, degli addetti ai lavori del presidente e del Napoli nella totalità ne vedremo delle belle per quanto riguarda questo calciomercato a me la partita di ieri è piaciuta e non poco e queste considerazioni a livello tattico secondo me andavano fatte e condivise sempre Forza Napoli ci vediamo nel prossimo video ciao